Oggi parleremo dei complementi indiretti. Si chiamano indiretti, ormai l'avrai capito se hai seguito le lezioni del passo precedenti, perché sono collegati al predicato tramite delle preposizioni semplici o articolate. Normalmente i complementi indiretti vengono divisi sui libri di grammatica in gruppi. Io non seguirò questa suddivisione anche perché libri di testo diversi potrebbero raggrupparli in modo leggermente diverso. Terrò però insieme quei complementi che hanno delle caratteristiche comuni e che quindi potrebbero indurti in errore più facilmente. In questa lezione prenderemo in considerazione il complemento di specificazione, il complemento di denominazione e il complemento partitivo. Cominciamo dal complemento di specificazione e partiamo subito con una frase di esempio. Sul balcone di mia nonna i fiori del gelsomino profumano le strade del paese. Partiamo subito con gli elementi fondamentali della frase che sono che è il nostro predicato verbale profumano. Chi compie l'azione di profumare? I fiori che è il soggetto. I complementi indiretti forniscono delle informazioni in più che possono riguardare il tempo, il luogo, l'aspetto. Sono tutte informazioni che vengono aggiunte agli elementi principali della frase che sono i fiori profumano. Siccome stiamo per ripassare il complemento di specificazione che cosa dobbiamo andare a cercare. Il complemento di specificazione è un complemento che ci dà indicazioni riguardanti principalmente tre cose. L'appartenenza, quindi di chi è qualcosa, precisa un nome che altrimenti sarebbe un po' generico, oppure sostituisce un attributo. Questo è un complemento che viene introdotto dalla preposizione di. Infatti, la domanda che ci poniamo è di chi? Di che cosa? Andiamo a cercare all'interno della frase. Ce ne sono ben tre. Sul balcone di mia nonna In tutti e tre i casi vedi che questo complemento è introdotto dalla preposizione di, che può essere semplice, può essere come negli altri due casi, nel secondo e nel terzo, anche una preposizione articolata. Il balcone di chi? Il balcone di mia nonna. In questo caso, il complemento di specificazione ci sta dicendo a chi appartiene il balcone. Quindi questo è un complemento di specificazione che indica appartenenza. I fiori. Quali fiori però? Di che cosa? Di quale pianta? Del gelsomino. Noi abbiamo un complemento di specificazione, sempre, che questa volta non indica tanto un'appartenenza, ma specifica, complemento di specificazione mica per caso, di quale pianta sono i fiori. Quindi ci dà un'informazione che precisa un nome di significato generico. Quindi in questo caso fa una precisazione. Le strade del paese. Di che cosa? Del paese. Anche questo è un complemento di specificazione. In questo caso però, ormai avrai capito, non mi sta indicando né un'appartenenza, né tantomeno mi sta dicendo qualcosa di più preciso sulle strade del paese. Del paese potrebbe essere tranquillamente sostituito dalla parola paesane, che è un aggettivo. Quindi in questo caso è una attribuzione. È come se svolgesse la funzione di un attributo. Ricordati che mentre nell'analisi grammaticale io parlo di aggettivi, nell'analisi logica gli aggettivi li chiamo attributi. Sono tutti e tre complementi di specificazione. Però è giusto che tu capisca bene quali sono le sfumature. In modo che quando andrai avanti nell'analisi logica e troverai tanti altri complementi, anche loro introdotti da di, e che anche loro potrebbero rispondere alla domanda di chi di che cosa, tu abbia tutte le informazioni necessarie per non sbagliarti. Quindi per riconoscere all'interno di tanti altri complementi indiretti, il complemento di specificazione. Quindi che cosa abbiamo ripassato finora? Che il complemento di specificazione, come dice il nome, specifica, cioè ci dà delle informazioni in più che riguardano l'appartenenza di ciò a cui si riferisce, oppure precisa ciò di cui stiamo parlando, oppure svolge la funzione di attributo. Il complemento di specificazione, però, non è introdotto solo dalla preposizione di. Può essere introdotto anche da una particella pronominale, che abbiamo già incontrato nei ripassi precedenti. Quindi, se io scrivessi, sul balcone di mia nonna i fiori del gersomino profumano le strade del paese, ne sono proprio felice. Noi avevamo già trovato i tre complementi di specificazione, ma ce n'è un altro, che è rappresentato da me. Ti ricordi cosa abbiamo detto sulle particelle pronominali, sui pronomi? Allora, abbiamo detto che tutte le volte che ne troviamo uno, dobbiamo esplicitarne il significato, cioè dobbiamo rendere chiaro, evidente, il suo significato. Che cosa significa ne, in questo caso? Sono proprio felice di che cosa? Di quella cosa lì che ti ho detto prima, cioè che il profumo del gersomino allieda le strade della città. Bene, sono proprio felice di che cosa? Di ciò. Complemento di specificazione. Quindi, sicuramente, devo farmi la domanda di chi di che cosa, ma devo anche ragionare molto bene, capire quali sono le parole che mi trovo davanti, e poi mai dare per scontato che mi basta rispondere a una domanda, ma devo sempre ragionare.